Buonasera cari amiche e cari amici, bentornati a Elisir, puntata speciale come ogni anno dedicata alla ricerca sul cancro e quando dico ricerca intendo dire anche alla lotta al cancro, perché ricerca vuol dire battaglia contro il cancro, guerra al cancro. Sono importanti i giorni che hanno preceduto questa puntata, i giorni che stiamo vivendo sono giorni decisivi per il nostro lavoro, per il lavoro coraggioso di tutti i ricercatori, di tutti quelli che cercano metodi per sconfiggere il cancro e cercano anche i soldi per finanziare questa ricerca, perché senza denaro la ricerca si arena, si ferma e si ferma qualche volta drammaticamente al limite del capezzale del malato e questo è per noi inaudito, è inaccettabile. Amiche e amici, la locandina dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro ci accompagnerà per tutta la puntata. Mettiamo il cancro all'angolo e il motto di questa nostra promessa, il proponimento di questa edizione, di questa giornata sulla ricerca sul cancro. Conoscere il tumore per sconfiggerlo, colon e diagnosi precoce, farmaci preventivi, maternità e tumore saranno i capitoli di questa puntata, di questa sera. Subito saluto il professor Pierpaolo Di Fiore che ci spiegherà come il nostro organismo si difenda dall'insorgere di un tumore. Professor Di Fiore, iniziamo con il professor Di Fiore non a caso, è un vecchio amico di Elisir, ci siamo già frequentati, ci conosciamo e soprattutto la bonomia del suo dire e la sua capacità di chiarezza ci aiuteranno, come del resto per tutti gli altri, ma lui l'abbiamo già sperimentata, ci aiuterà a dare al nostro proponimento quel tono di ottimismo dalla volontà che ci è tanto caro. Prego professore, la domanda è come possiamo, perché possiamo dire che l'insorgere di un tumore è una faccenda complicata da cui l'organismo si difende e quindi siamo sul limite della difesa e della resa. Sì, in realtà i tumori sono malattie molto complesse, ma sono molto complesse perché noi abbiamo molte difese costruite nei nostri sistemi per difenderci dai tumori e per quindi aggirare queste difese il tumore deve mettere in moto una serie di strategie, il che ne crea un'estrema complessità, però fornisce anche poi diversi bersagli, diverse maniere per poterlo attaccare. Cioè la stessa complessità del nostro nemico offre più bersagli? Quanto più complesso è il nemico ovviamente è tanto più variegata la possibilità di trovarne punti deboli e quindi di trovare bersagli per la terapia. Quindi nella complessità, nel problema c'è un'opportunità al tempo stesso. Parleremo poi, come si è detto nel nostro argomentare, quando abbiamo parlato del sommario, del tumore al corpo. Malattia diffusa, molto diffusa e ne parleremo con il professor Salvatore Siena. Quando si sente parlare di diagnosi precoce viene una sorta l'insofferenza nei cittadini perché dicono, sì ho capito, non l'ho fatta la diagnosi precoce, non l'ho fatto la prevenzione, ma adesso che cosa ho, cosa potrei avere, cosa ho il terrore di avere e come lo potrò curare? In buona sostanza è difficile una diagnosi precoce di questo tumore o è facile? Non è difficile. La diagnosi precoce del tumore del colon si fa con un esame estremamente semplice che è la ricerca del sangue occulto nelle feci. La ricerca del sangue occulto nelle feci è un esame non complesso, meticoloso, che richiede un'organizzazione. Infatti oggi molte delle aziende sanitarie locali del territorio nazionale hanno organizzato delle campagne di screening, si dice, nelle quali i cittadini sopra i 50 anni, che è l'età dalla quale comincia il rischio importante di tumore del colon, ricevono a casa un sollecito a fare questo esame, l'organizzazione con i materiali per farlo, la modalità per espletarlo e se il sangue occulto è positivo ricevono una richiesta, un invito a presentarsi in ospedale per fare l'esame importante che è la colonoscopia. Io la ringrazio e adesso parliamo con il professor Salvatore Siena, Andrea De Censi, abbiamo parlato con il professor Salvatore Siena per affrontare i farmaci. Quando abbiamo iniziato questa serie di trasmissioni tanti anni fa, noi abbiamo potuto registrare nel corso del tempo mutazioni incessanti e novità incessanti. Le chiedo, per quanto riguarda la prevenzione e i farmaci, quali sono i tumori per i quali oggi ci sono farmaci più efficaci o molto efficaci anche a livello di prevenzione? Parliamo di farmaci prima che le persone si ammalino. E quelli sono quelli che servono alla prevenzione? Sono quelli per la prevenzione, un po' come fanno i cardiologi che da 20-30 anni ci danno i farmaci per abbassare la pressione o il colesterolo. Questo in oncologia è un tema un po' più nuovo, però adesso abbiamo per la mammella, l'intestino e la prostata, farmaci che riducono del 30, 40, anche 50% l'insorgenza dei tumori. Qual è l'ultima novità che lei ha fatto dire è viva? La grande superstar del 2012 è l'aspirina, l'aspirina a dosaggio cardiologico, la mitica aspirina che costa 2 euro al mese e abbassa la mortalità dei tumori del 20-30% e anche previene le metastasi. Nelle dosi cardiologiche? Qual è la famosa cardioaspirina? La cardioaspirina è il rinascimento di questo farmaco negli ultimi due anni grazie a tutti gli studi condotti in Inghilterra che veramente sono straordinari. Questa è una bellissima notizia e anche una notizia economica che farà piacere al Ministro della Sanità, al Ministero della Sanità perché questo significa che abbassando... Paradossalmente però se un farmaco costa troppo poco magari ci sono più difficoltà a implementarlo come strategia di salute pubblica, era un discorso più complicato. Si sta insinuando un velo di malizia in questo che sta dicendo. No, 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 è la realtà della vita. È talmente bella che io ho ragione di rallegrarmene. Allora, parliamo dell'ultimo argomento che interessa molte famiglie. Si può avere un figlio dopo aver sviluppato e combattuto un tumore dopo la chemioterapia? Dottoressa Lucia Del Mastro. Prego, rapidamente. Sì, è possibile, fortunatamente oggi è possibile per un numero sempre maggiore di donne. Più sintetico e più efficace di così non avrei potuto chiedere. Di questo la ringrazio in particolare perché dobbiamo subito dare conto della nostra raccolta, dei dati della nostra raccolta e lo faccio salutando una nostra collega, Patrizia Belli, che stasera non è con noi ma alla prossima puntata di Elisir contiamo di averla sempre con noi. Ancora una volta, una socia fondatrice della ditta Elisir. Io a questo punto voglio salutare la nostra testimonial dell'Aico, un'attrice amatissima, sì, anche da me, il volto per eccellenza del nostro cinema, Stefania Sandrelli. Dove voi state? Qua. Qua. Piccola diatriba, prima della trasmissione, dice Michele ci possiamo dare del tu anche in studio? Dico sì, sì, evitiamo questa affettazione di sconoscenza del lei, ci conosciamo da qualche anno. Sì, perché ho visto questa cosa che si danno del lei, poi si danno del tu, cioè è faticoso. Poi passa l'insulto con lei che viene difficilissimo perché mandare una a quel paese col tu viene più facile. No, io poi istintiva come sono con me non attacca. Insieme a te voglio leggere i dati della nostra raccolta, 3.967.331, ma non facciamo in tempo a pronunciare la cifra che corra. Ma ce la faremo, prima della fine della trasmissione. Siamo con le 4 milioni insieme a te e ti dico, ti prego, rivolgi una... dimmi perché profondamente vogliamo farlo questo appello e diciamo che bisogna chiamare al telefono fisso il 45505. Potete donare 5 oppure 10 euro. Con un SM allo stesso numero potete donare 2 euro. Per donazioni con carta di credito, la carta di credito serve. Telefonate al numero verde 800 350 350. Questo è quello che io dico. Adesso dammi una tua ragione, forte. La mia ragione è la ragione di tutti perché ci sono molte cose importanti nella vita. Questa è una delle cose più importanti. Io sono veramente grata alla vita di far essermi... non so... di essere qui adesso, di non essere stata molti anni fa e di... sono grata alla ricerca perché sicuramente i miei figli, i miei nipoti e il futuro sarà migliore. Perché questa è una cosa che veramente riguarda tutti e anche se magari non, come dire, ce lo dimentichiamo, invece bisogna stare sereni, bisogna essere sostenuti e per essere sostenuti bisogna sostenere, molto semplicemente. Grazie, grazie molto Stefania. Accomodati tra i due illustri professori e io intanto ricordo che il nostro numero di telefono per poter dialogare con i nostri ospiti, a cominciare dal professor Pierpaolo Di Fiore che sto aggredendo con la mia curiosità in questo momento, mi guarda in tralice, potete usare il numero verde che è 800 050 291. Ripeto, 800 050 291 per tutti i vostri quesiti e i nostri colleghi sono già nella sala telefoni ad ascoltare i vostri messaggi e le vostre richieste. Professor Di Fiore, dalla complessità del cancro nascono nuove opportunità di cura. Questo è stato il senso finale della nostra prima battuta, della sua prima risposta. Cancro, anzi, diceva una volta Veronesi, i tanti cancri, i tumori, una malattia che ha varianti, stati di diversità complessissimi. È vero, esistono diverse centinaia, forse migliaia di tumori. Spesso noi siamo abituati a parlare del tumore sulla base dell'organo di insorgenza, ma già all'interno di un tumore di uno stesso organo esistono alcune decine di varietà, spesso molto di più. E ognuna di queste centinaia di varianti di cancro poi ha una sua complessità intrinseca che può essere estremamente elevata. Per cercare di dare un'idea del livello di complessità, noi possiamo pensare, possiamo paragonare la complessità di un tumore a livello molecolare a quella che per esempio è la complessità della società. Il tumore è origine a livello cellulare di cellula e la cellula è come rappresenta un individuo all'interno della società. Queste cellule sono organizzate poi in comunità più ampie, che sono gli organi, i tessuti, che corrispondono un po' a livello societario alle città o alle nazioni. E a loro volta queste strutture sono organizzate in strutture più grandi che sono i sistemi e gli organi. Ecco, questa complessità, questa gerarchia, che ha poi numerosi livelli di controllo, come magari vedremo più avanti, è quella che il cancro deve aggirare. Comprendere come viene aggirata questa serie di controlli è quello che noi cerchiamo di fare, ma in termini di complessità dobbiamo paragonarla come se noi stessimo cercando di capire a come un evento importante nella storia dell'economia o della filosofia o della politica può cambiare la struttura di una nazione o la struttura del mondo. Ecco, questo è in paragone il livello di complessità. E' affascinante quello che dice, ma allora perché lo fa il cancro? Il cancro lo fa per guadagnarne un vantaggio. Qual è? Paradossalmente il vantaggio del cancro è che la cellula tumorale, sebbene sia una cellula molto simile alla cellula normale, alla cellula dell'organo normale, è una cellula che ha guadagnato un elemento anarcoide per il quale decide di sottrarsi al controllo. Sottraendosi al controllo ne ha un vantaggio, che è il vantaggio di potersi replicare liberamente, non più secondo tutti i livelli di cecca, secondo le leggi, esattamente, e riesce a farlo fino a un certo punto, ovviamente, perché poi va in competizione con l'ospite, l'ospite è una parola un po' asettica per indicare l'individuo che è malato, di tumore, e questo crea un problema. Il tumore lo sa che se vince poi muore pure lui? Il tumore se vince muore pure lui, diciamo, la logica della pressione, questa è proprio pressione evoluzionistica in senso vero, ovviamente non ha poi una teleologia, come si potrebbe dire, c'è una finalità così complessa da far sì che il tumore si rende conto che uccidendo l'ospite uccide se stesso. E intanto, grazie anche all'appello di Stefania Sandrelli, eccoci qua, stiamo per raggiungere i 4 milioni di euro, potete pure applaudire, grazie! Andiamo avanti, mentre noi parliamo con il professor Siena, prima abbiamo lanciato un messaggio molto importante per la prevenzione del tumore al colon, entriamo nel dettaglio, quali sono i sintomi che ci permettono di riconoscere che qualcosa non va nell'intestino? Una persona che ha un tumore del grosso intestino, quindi del colono del retto, ha dei sintomi generali e dei sintomi intestinali. Sintomi generali sono sostanzialmente la stanchezza, stanchezza che ha alla sua base l'anemia che deriva dalla perdita, anche piccola ma continua, lunga, prolungata nel tempo di sangue, ricorda il sangue occulto nelle feci. Sintomi intestinali che sono la presenza di muco o di sangue nelle feci, l'impellenza a evacuare senza riuscire, cioè dovuto al dolore che può essere presente, e anche feci molto scure, che in termini tecnico è la melena, dovuto alla perdita di sangue molto a monte nell'intestino. A monte nell'intestino, quindi nel due velo? No, no, a monte, cioè nella parte più alta dell'intestino, quindi ha il tempo di essere digerito il sangue. Melena è una parola che viene dal greco, da melas che vuol dire nero, quindi il colore è molto scuro. Sangue molto scuro, esatto. In questo senso può essere individuabile come sintomo, ma non è sicuro che lo sia. Come sintomo, certo. Bisogna fare gli accertamenti. E sappiamo quali sono le cause di questo tumore? Ma guardi, le cause sono quasi sempre cause ambientali, cause che derivano dall'esterno. La percentuale, la frazione di tumore del grosso intestino, del colon e del retto, che sono dovute a cause familiari, ereditate, sono molto poche. Le cause ambientali sono per lo più, direi, modificabili o non modificabili. Quelle che sono modificabili sono la dieta, l'assunzione di alcol, il fumo e l'attività fisica. Quindi la dieta deve essere... Come l'attività fisica? Aiuta? Aiuta. Quindi adesso se ripassiamo queste quattro cause modificabili, una dopo l'altra, posso dirle che la dieta, la presenza, cioè lo sviluppo di tumore del colon, si associa a una dieta particolarmente ricca di carni, carni rosse, tanto che viene consigliata un'alternanza fra carni rosse e carni bianche e comunque una dieta ricca in fibre, frutta, vegetali. La benemerita verdura, la benemerita frutta. La sorride anche il nostro professore. Dico benemerita perché pare che... Dovunque io la incontro, quando si tratta di fare del bene alla salute, però poi ci sono anche incontro e indicazioni, dipende. Però dieta mediterranea assicurante consiglia, quindi varia e... E la novità terapeutica? La novità terapeutica? L'ultima cosa che le ha fatto gridare di gioia. Guardi, allora, in campo preventivo sicuramente l'aspirina, anche perché l'aspirina si è rivelata essere un farmaco a bersaglia molecolare, cioè si avvantaggiano soprattutto pazienti o ammalati, o non ammalati, che hanno un tumore con determinate alterazioni molecolari. Stiamo vedendo delle immagini che probabilmente potranno... Le immagini che vedete qui sono... Sono molto efficaci, credo. La mucosa a sinistra indica uno stato infiammatorio? Quella è un'immagine endoscopica. È quello che l'endoscopista, il medico endoscopista, vede quando analizza, esamine il colon, in questo caso normale. Quella è la mucosa normale, proprio il lume, il tubo intestinale, così come deve apparire. Quello è un tubo, è un colon sano. A quello a sinistra è un colon sano? Un colon sano, sì. A destra è un colon che ha acquisito, a causa appunto delle acquisizioni di tutta una serie di difetti che derivano da sostanze per lo più acquisite dall'esterno, un polipo che è un'escrescenza visibile... Quella è l'immagine centrale. L'immagine centrale. Un polipo che è un'escrescenza visibile o a occhio nudo o con una lente di ingrandimento, può essere da millimetri, addirittura centimetri, ed è un'alterazione precancerosa. È un'alterazione che se è rinossa... È illuminante per l'endoscopista, per il medico? Beh, certo, è molto importante, perché sta a significare che... E funziona come una diagnosi precoce? È la sostanza della diagnosi precoce. Perché se è rimosso, previene la trasformazione in quello che vede a destra, in cancro, cioè in carcinoma. Bene, allora, è l'immagine che preferiremmo non vedere più dalla prossima puntata della trasmissione per la ricerca sul cancro, che intanto possiamo dire ha ottenuto a tutto quest'ora, le 21, le 22 e 50 secondi, 4 milioni, 44 mila, è 45 mila e passa, mi pare che possiamo considerarci in corsa. Allora, le terapie? Beh, le terapie sono... Allora, per gli stadi limitati all'intestino, sono sicuramente la prima terapia alla chirurgia. La chirurgia, preferibilmente la paroscopica, ma talora anche necessariamente la parotomica, il che significa la paroscopica con un minimo di intervento sulla pancia, con dei buchi nella pancia, che consentono al chirurgo di estrarre radicalmente il tumore. La parotomica facendo un taglio... E le percentuali di buoni risultati sono uguali? Sono identici in mani esperte. Poi bisogna integrare la chirurgia. Però la chirurgia ha bisogno spesso della complementarietà, di terapia complementare, che sono la terapia medica, che è chemioterapia o terapia bersaglio molecolare. Che cos'è la terapia bersaglio molecolare? Allora, questo è il frutto della ricerca più recente. Cioè una volta identificati, come diceva il professor Di Fiore, i meccanismi di sviluppo del tumore o i meccanismi di resistenza ai farmaci già disponibili, noi possiamo identificare i punti deboli, i talloni d'Achilla del tumore, e attaccarli con farmaci. Quindi curare e talora anche guarire la malattia, bloccarla attraverso farmaci estremamente precisi, ma che funzionano solo quando c'è l'alterazione giusta o quando c'è l'alterazione nota. Ci sono, per esempio, come diceva prima il professore, il fatto che il tumore attacchi un organo può servire all'esame all'università per stabilire che c'è, ma quanti sono i tumori che attaccano un organo e tutti i tumori che attaccano quell'organo reagiscono alla stessa terapia? No, allora, è quello che AIRC ci sta consentendo di fare. Cioè stiamo facendo adesso una mappa delle alterazioni molecolari, di quella che pensavamo fosse la stessa malattia e stiamo cominciando a capire come meglio curare delle fette dello stesso tumore. Non tutti i pazienti reagiscono ad una terapia allo stesso modo, a una particolare terapia. E come si fa a capire, come si fa a individuare la terapia più indicata per un paziente? Lo abbiamo chiesto al professor Alberto Bardelli, anzi per noi l'ha chiesto Elisabetta Lombardi. Grazie. Il cambio di passo nello studio e nella terapia dei tumori è avvenuto quando, per la prima volta, i medici e i ricercatori hanno avuto a loro disposizione la sequenza del nostro genoma, il nostro DNA, la mappa genetica dell'uomo. Questo ha cambiato le prospettive della ricerca. Perché? Perché attraverso l'analisi di ogni singolo gene siamo in grado di fare prognosi e di predire il futuro della terapia. La scoperta sta nella capacità di identificare nel sangue dei pazienti una spia precoce di risposta o di resistenza alle terapie. Con delle tecnologie innovative molto sofisticate siamo riusciti per la prima volta a vedere precocemente un gene mutato, un gene che si rompe, si rompe nel tumore ma poi viene rilasciato come DNA nel sangue. Con queste tecnologie riusciamo a vederlo in un prelievo di sangue, quindi in un modo non invasivo, anticipando quella che sarà poi l'informazione che deriviamo dall'attacca, per esempio. Quindi noi con questo test siamo riusciti con mesi di anticipo rispetto all'attacca a predire la risposta o la resistenza di un paziente a una terapia. Questo si applica, nel nostro caso, in particolare ai pazienti che hanno il tumore del colon e le metastasi al fegato. Qual è il passo successivo? Il passo successivo per noi è usare il sangue come spia per capire qual è il meccanismo di risposta o di resistenza ai farmaci, ovviamente ai farmaci antitumore, e utilizzare questa spia per inserire nuove terapie che colpiscano proprio i geni che si rompono. Queste nuove terapie che noi chiamiamo terapia bersaglio molecolare sono in corso di sviluppo, ci sono quelli che noi chiamiamo trial clinici, quindi non sono immediatamente disponibili, ma coinvolgono un'equip che prevede dei ricercatori e dei clinici. Questa è anche la nostra grossa forza. Noi ormai lavoriamo come un team unito fra i clinici e i ricercatori. Ci parliamo ogni settimana e i pazienti vengono discussi continuamente tra di noi. Un po' va il nostro applauso. Se dovessimo fare, Stefania, se dovessimo fare una foto di gruppo a tutti i soci dell'AIC, ci vorrebbe ben altro che una fotografia. Siamo milioni. Che meraviglie che sono queste persone. Questi giovani. Che meraviglia. Perché io ho sempre pensato che un paese sia civile solo quando sostiene la ricerca. l'ho pensato sempre. Adesso ovviamente con questa crisi come dire, c'è un po' più di difficoltà. Però veramente sono degli esseri umani meravigliosi perché si occupano del futuro. Del domani. Di tutti noi. Del domani di tutti noi. Professore, quanto è importante? Quello che abbiamo visto, le persone che abbiamo visto sono le persone con le quali lavoriamo in sinergia. La crisi non è di idee. le idee ci sono e le stiamo portando avanti. Quello che stiamo facendo è un lavoro corale appunto fra preclinica come ha visto il gruppo del professor Bardelli a Candiola all'Istituto di Ricerca e Cura del Cancro di Candiola Torino e il gruppo di clinici in questo caso ha visto il gruppo dell'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. È uno sforzo corale che prevede appunto la comprensione dei problemi e la soluzione dei problemi. Cosa che effettivamente ha il che ha reso possibili in questi anni. Che bello quello che ha detto. Il termine che ha usato è bellissimo e lo acquisisco. Corale. Corale. Quindi ci vuole armonia. Eh sì. Sta a cantare insieme. Ognuno col suo ruolo. Voi avete un ruolo importantissimo a casa. Bassi, baritoni, contralti, soprani, mento soprani, tenori, musicisti, tutti. Coralmente. partecipate alla nostra raccolta. 4-5-5-0-5 da rete fissa per donare 5 o 10 euro da rete fissa, il telefono fisso. 5-4-5-5-0-5 5 o 10 euro con un SMS potete versare 2 euro ma se tirate fuori quella benedetta carta di credito il numero verde da usare è 800-350-350. Noi vogliamo arrivare dopo la pubblicità almeno ad avere altri 100.000 ci proviamo. Altri 100.000 euro da iscrivere nel nostro tabellone. Pubblicità. Nero Giardini uno stile tutto italiano. Bella Melinda tanto gustosa rendi la vita un po' più gioiosa è irresistibile perché ha dentro la passione di 5.000 famiglie della Val di Nonna garantisce il bollino. Melinda mi piace di più. Allora cosa mi devi dire? Il Natale di Guinda arriva prima. Eh? Ci chiedono di consegnare le gare. Eh? Offerto l'inclusive e ricariche che valgono di più. Eh? Io farò Babbo Natale. Allora? Ci manca la renna. Quindi? Fai la renna. Ma sei bravissimo scusi non è bravissimo gli mancano solo le corna. Guarda caso eccole! Oh no no All inclusive a 8 euro al mese per 5 anni internet messaggi e minuti veri e tutte le ricariche valgono di più nei negozi WIND Perché iniziare la giornata sempre nello stesso modo? Quando potresti provare qualcosa di diverso prova i nuovi Special Case Sensations croccanti agglomerati di 5 deliziosi cereali buonissimi anche nel latte caldo nuovi Special Case Sensations per un inizio deliziosamente diverso Tu cosa avrai di più? Quando porti la dentiera il cibo può diventare un nemico per la tua bocca le particelle di cibo si infiltrano e i batteri aumentano proteggi la tua bocca con Cookident doppia protezione un adesivo che crea una barriera anti infiltrazioni e ha un'azione antibatterica sulla dentiera per una bocca pulita e sana nuovo Cookident doppia protezione anti infiltrazioni antibatterico sulla dentiera Che tempo che fa del lunedì Quelli che avevano fatto voto di castità voto di povertà e voto di obbedienza solo per avere tre voti in più Quelli che fanno la campagna contro Monti Quelli che non fanno più la campagna contro Monti Quelli che fra la campagna e i monti preferiscono comunque il mare Quelli che gira che te rigira tra campagna Monti e mare vogliono comunque il colle Che tempo che fa del lunedì lunedì alle 21.05 Rai 3 Sei mesi fa viene arrestato Massimo Ponzellini manager dell'impregilo e presidente della BPM è accusato di aver concesso finanziamenti in cambio di mazzetti dall'inchiesta emerge la ragnatela di rapporti con la politica da Calderoli a Bossi da Giorgetti alla Sant'Anché dalla Russa Dell'Utri da Gianni Letta a Paolo Romani da Grigli a Tremonti Eccoci ancora insieme amiche e amici siamo a Elisir siamo a Elisir siamo impegnati quella la puntata chiave della nostra programmazione che è quella dedicata alla programmazione di questa testata dedicata alla ricerca sul cancro stiamo raccogliendo i soldi ebbene sì stiamo raccogliendo del denaro che servirà per la ricerca perché la ricerca senza denaro non si può fare due cose una nobilissima e l'altra il denaro da tanti considerata la cacca del demonio serve invece ebbene sì serve invece a noi 45505 da rete fissa per 5-10 euro sms per 2 euro e carta di credito al numero verde 800 350 350 pronto pronto buonasera dottor Mirabella volevo fare una domanda al professor Siena ne ha facoltà prego grazie io soffro di stipsi da sempre volevo sapere se sono più a rischio di ammalarmi professore no 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 perché no non è una causa cioè non è di per sé non è una causa di tumore del colon la stipsi piuttosto bisogna andare a capire perché c'è questa stipsi cioè bisogna capire se è una stipsi recente o se è una no le dice da tempo da sempre no ecco cioè se è una cosa recente va a indagare non è una bella compagnia stipsi no però non è una causa cioè non c'è un rapporto causa-effetto univoco la possiamo tranquillizzare pronto buonasera dottor Mirabella volevo porre una domanda dal professor Siena sì l'ascolta dica pure ecco volevo sapere oltre a ciò che mangiamo l'emodetà di cottura dei cibi decide sul rischio di sviluppare il tumore ma guardi io vorrei rassicurare una cosa cioè non esiste un rapporto causa-effetto diretto fra il cibo che mangiamo e l'insorgenza del carcinoma del colon e del retto cioè non è che se io modifico la dieta sono assolutamente sicuro di evitare il tumore del colon tuttavia epidemiologicamente in società che sono più predisposte a mangiare diete molto molto ricche di carne lo sviluppo di carne rossa lo sviluppo del tumore del colon è più facile la cottura deve essere una cottura non fortemente cioè regolare ecco secondo la dieta mediterranea quindi non cotture estreme carni preferibilmente fresche non insaccati quindi che evitano la contaminazione da parte di agenti chimici per quanto possibile grazie 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 professor Siena questo era il nostro numero di telefono voi potete usarlo amici e amici sempre perché i nostri professori sono a vostra disposizione diciamo a disposizione della trasmissione ve lo ricordo 800 050 291 il nostro numero di telefono è 800 050 291 altri numeri di telefono che invece dovete ah voglio salutare il professor Siena che è stato così gentile da ridicarci il suo tempo grazie per essere stato con noi l'aspettiamo professore il prossimo anno perché ci porti una notizia felice vogliamo una notizia felice il prossimo anno Stefania per dare notizie